Quest'anno ricorre il centenario della traslazione del mille Tignoto dalla Basilica di Aquilea al Vittoriano di Roma. È una data importante. In Italia fu istituita per volontà di un generale, viene costituita una commissione per la ricerca dei caduti su determinate località, dal Grappa al Calvario a Monfalcone e così via di seguito. Questa commissione sceglie 11 salme di cui non si ha la certezza dell'identità. Queste 11 salme vengono portate presso la Basilica di Aquilea e una donna è incaricata a scegliere la salma di quello che sarà il mille Tignoto, cioè dire il marito di tutte le vede, il padre di tutti gli orfani, il fratello di tutti i congiunti. Maria Badidas, una triestina, la donna scelta per compiere questa operazione, l'individuazione del mille Tignoto. La Maria passa e rassegna le 11 bare dentro la Basilica di Aquilea. Arrivata alla 10 barra si accascia e indica il nome dei figli, Antonio Antonio. Il figlio gli era morto chiaramente in guerra, un triestino che era passato in Italia. combatteva per la sua nazione Italia. Dopodiché la salma viene condotta, con tutti gli onori del caso, a Roma. Quindi si forma il corteo ferroviario funebre. Parte da Aquilea, tocca parecchie città, si ferma in tutte e quante le stazioni. Finalmente arriva a Roma. A Roma c'è la grande cerimonia, il grande evento. Tutte le mamme, le vedue, i fratelli, i parenti, fanno ala al corteo in via nazionale a Roma. Si arriva al Vittoriano, la salma viene condotta in spalla dalle medaglie d'oro, al saccello, a quello che sarà il saccello, la tomba sotto la Dea Roma e viene tumulata. Al mille Tignoto, in rappresentanza di tutti i caduti gnoti, viene concessa la medaglia d'oro, al valore militare e un riconoscimento per tutti i caduti gnoti. Nell'anno 1924, per lavori di ristrutturazione al Vittoriano, viene costituito un saccello particolare in cui viene ritraslata la salma del milito gnoto in questo saccello. Al fianco c'è la sala delle bandiere. Al prossimo episodio